Bene ragazzi, questa è la terza clip Non so quanto dure il gioco, eh Non so se stiamo al finale O roba del genere Ok Andiamo dai Non so che è il merda, inculati Stai bene Aspetta, mi ritrollo Sì Scrivetevi, ma ci stavo Andiamo E stiamo anche dicendo la tele radio Molto bene Che casino però Beh, abbiamo proprio fatto Un gran bel giro in cerchio Ma è stato un casino Noi abbiamo potenziamento Ah no, non abbiamo niente Ok Andiamo avanti E vediamo un po' Caricamento Ok Merda C'è nessuno là fuori No Questa cazzo di cosa È lei La mia piccola Ce l'hai fatta, Moira No Questo rottami non funziona D'accordo Allora andiamo al boss E che non lo sia di merda Puoi dirlo forte Questa registrazione di sei mesi fa Ma un dopo sei mesi Tua figlia si chiama Moira Questa c'è succese Non è la fine così Che brutta Non è la fine così Nel prossimo episodio di Revelations 2 Moira cercava di raggiungere quella torre Quando ero con lei Ho bisogno che mi porti lì Puoi farlo per me? No Se siamo stati infettati con qualcosa Prometto che arrivo E' questo il posto Il vasito Come schiamo Non avere paura che bello meditazione se quindi crede un'altra serie è finita comunque il gioco di resident evil revelation 2 il continuo sta a 5 euro sono 5 euro per 4 5 per 3 perché questo è il primo capitolo 5 per 3 15 euro vedo di scaricare tutto quando vi portatello sul canale bene, dali qui è tutto commentate, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, non ci vediamo nel prossimo episodio sempre se ce la faccio a comprarlo perché il momento devo comprare Rainbow Six Siege mi sta volendo per scadere il contratto online tra un mese e 19 settembre quindi noi ci vediamo al prossimo non so quale sarei voluto ricominciare vedremo qualche altro gioco sempre gratis penso che porterò Minecraft da Story Mode, bene, noi ci vediamo e passo io, ciao ragazzi